Patrizio Chianese, il re degli hot dog Sei emozionato? Tanto Perché? Cosa devi fare oggi? Il video da Patrizio Chianese Ragazzi siamo nella famosissima strada Infatti vi metto lo zoom Lo faccio vedere da più vicino dove stanno le bandiere Lì e dove si posiziona Patrizio con i suoi hot dog E oggi siamo qui Io esce il boom Toccando Per provare Lo hot dog di Patrizio Più buono Di Napoli E Italia E non siamo soli C'è anche Cristian Massimino Ciao ragazzi Sei pronto tu? No Ti fidi? No Forse mi fido Hai già in mente il tipo di hot dog da prendere? Non lo so No perché ti fidi di lui Mi fido di poche persone L'ha capito una di queste Patrizio Chianese Ciao Benvenuti in bentornati sul canale Siamo qui oggi con un nuovo video E oggi come vedete dalle nostre spalle Siamo in una via molto molto famosa Afragola Cosa devi dire in mente Assaggiare il ti fidi di me Perché l'hot dog di Patrizio Chianese Lo chiamo così Ti fidi di me Assolutamente Perché fidarsi è bene Patrizio Chianese è meglio Ragazzi siamo venuti qui Io e Sciale Per assaggiare Ma in realtà ti dico di più Voglio conoscere Patrizio Chianese Intervista? Ma sì Una sorta di aperitivo Per rievocare il mio format Mi piace Mi piace Ti voglio fare qualche domanda Scoprire anche un po' la persona com'è Allora è molto simpatico dai video È un personaggio Ci stanno andando anche molti personaggi del web Del social Di TikTok più nello specifico Noi siamo quelli più bassi Sotto Sotto Comunque a breve A momenti arriverà Venite con me Venite con noi Che vi lasciamo conoscere Patrizio Che assaggiamo con voi Questi o dopo Ragazzi ecco qui Questa è la famosa strada Lì si posiziona Patrizio Ragazzi con noi E' venuto anche Ozyman Sempre Andee C'è tensione C'è hype Ti vedo ansioso Perché sappiamo che da momento all'altro Da quella strada Potrebbe arrivare l'idolo Ragazzi sta arrivando Eccolo Eccolo lì Andee L'arrivo di un idolo Carrettino più aspettato Di TikTok Patrizio 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 Mi viene la piangere Ragazzi Mi viene la piangere Patrizio Stiamo aspettando Sulla te Stiamo aspettando Patrizio è un grande Si andrà in onda Su canale 5 Odio Carrettino Posizionato Perché io nel video Ti dico la verità Ho detto che mi fido Di 4-5 persone Nella mia vita Una di queste sei tu Secondo me Devi essere l'unico No Perché fidarsi è bene Ma di Patrizio Chianese è meglio Ma io lo so Patrizio C'è Patrizio Patrizio Quanta cazzo di salserire Beh se voi attrezzate L'ho po' fuori Adio conosco per la mia volta Patrizio Patrizio Io voglio di conoscere E tra l'altro Ti metterò anche alla prova Oggi Perché io sono Intolleranti al lattosio Quindi So Tilette Ormaggio Niente Ti metterò alla prova Vediamo cosa mi prepari Io voglio conoscere te Come la tua persona Ma innanzitutto voglio sapere una cosa Ti aspettavo il costo successo Ma io Dico la verità Penso che non sono una persona Di successo Ma sono una persona Normale Come tanti di loro Che si dà da fare C'è qualcuno che sui social Ha detto che hai copiato Di 4-5 Io la verità Veramente Io vendevo le pannocche Come vendevano tanti E ho detto che devo fare qualcosa di diverso Quindi è la tua idea Io ti dico la verità Non l'ho preso da nessuno Perché Veramente non l'ho preso da nessuno È stata una cosa Che non ci pensavo io Se vogliono pensare Che la Ciccubia Il mondo Infatti C'è ognuno la sua idea C'è qualcosa che aspiri a diventare O per il momento Va bene così Che poi so che anche Giochi a calcio Magari quella potrebbe essere Un'altra strada Non lo so Quella ormai È passione solo Però ti posso dire Che spero Di aiutare Le tante persone I ragazzi Soprattutto A insegurare loro Sono Eh no Ma qua ce ne stanno tanti Ti fanno sempre compagnia E' una bella cosa per te Ma comunque ti fa onore Dopo tante cose che si sono dette E che si sono fatte Su di te Ti fa onore Tutto quello che ti sei creato da solo Eh le persone Ci sarà sempre qualcuno Che ti vede Qualsiasi cosa A lui A me Seguo c'è Gesù Che c'è da Patrizio Chianese C'è da me Che c'è la tua Ragazzi Se fidarsi è bene Ma di Patrizio Chianese È meglio E mo Assaggiamo E' arrivato anche il mio turno Mi fido Però senza lattosa Mi fido Mi sento all'erante Non mi hanno sfidato Non lo so Qua dove è stato Vabbè Allora senza lattosa Allora mettiamo Formaggio Ok Mi sentirò male Però sono 18 Ah Latte Me la cipolla Tra l'altro Mi piace molto Alla mia ragazza Un po' Bene Infatti Mi ha insegna La uova Una pozza Baccia La scena Cotto Una volta Nel video Ho provato Lotto Di patrizio In che senso Far meglio Delicatamente No E mo Mi sono Yogurt Questo non fa parte Del video Vai vai Ci lo manciamo No Vai Non è un problema Sennò qualcuno Vuole Così Ah Ora è andata Così Siamo a posto Abbiamo salvato Lotto Mi sento Non è una stata Cioè Non è una stata Non è una stata Non è un road dog Ah Sono mangiornati Grazie È mai venuto Qualcuno Intollerante All'attosio No Ma oggi Sta pure Con te Giusto Il bel cotto Un po' Ketchup Che faccio Con i pomodori Minini La tua terra Sì Cananese Ma ci mettiamo Un po' Di cipolla Fritta Croccante Con bassione Due patatine Con latte Barbegno Yogurt Grazie E poi ci mettiamo Un ultimo ingrediente Che non lo metto da tanto tempo Guardate come si è traslato Di una volta Paprika dolce Ci fidiamo Non lo mettiamo Da un sacco di tempo Per quale motivo Non so C'è Inghizione Ma lecuna Si chiude Sì Che se ne ha papri Non è che la roba Che stai in dei botti Ma come Assaggiamo Ragazzi Questo dog È pienissimo Guardate come si presenta E lo viene pieno pieno Allora ragazzi Io vado subito Da un morso Proprio Nella parte più piena Ho un po' di paura Sincera Perché sono degli ingredienti Che non ho mai assaggiato Ma sai che è buono È buono È buono veramente Ma allora è vero Quello che dicono Si sopra È buono veramente La paprika Si sento passata La salsa barbecue La cipolla Che a me piace Ma io Mi giuro Fare il visto Lo giuro È tanta roba L'unica Vi giuro Ma penso che si vede Non me lo sarei aspettato Ci sono delle cose Ma ci vedi assaggiate Un dog Poi tra l'altro Allora Per la creatività E per la fantasia Do 10 Ci sono delle cose Che non ho mai assaggiate Quindi con la verità C'è tra l'altro Tutte quante Insieme È una esplosione Di sapori Tu sta Patrizio pianese Il rete Yodok Comunque Non posso mangiare Il lattosio Il yogurt Ci sta Ti è piaciuto A te Gordo Agliù Finisci qui Un bel video Dai Perché Ma noi avevamo tantissima Oglia di conoscerlo Esatto Conoscerlo prima E devo dire È una persona molto molto umile Perché Hot camera Comunque ci siamo messi un po' A parlare Abbiamo scoperto Tante cose Abbiamo conosciuto Tante cose di lui Un ragazzo Molto molto umile E forse questo È il segreto Del suo successo Naturalmente è rimasto Sempre il ragazzo Un ragazzo Un ragazzo No dog Penso che si sia visto Anche lui era buono, c'erano tante cose dentro, probabilmente l'una cozza con l'altra, se le prendi separatamente, però insieme erano buoni, che ti devo dire? Comunque spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video, forza Patrizio, ciao a tutti!